e anche questa è fatta e andate via così voi e perchè ci devo mettere la firma? e no ma ci vuole il cartellino con sopra scritto attenta la vernice guardi che io faccio il verniciatore mica il cartellista ci mancherebbe altro che faccio ancora i cartelli e qui è subito in versione di competenze viene fuori una grana sindacale che non finisce mai non sono mica matto e no matto no ma uno pochettino me ne freghi cartellista si eh ci vogliamo sedere qui? ma dove vuoi? qui o in un altro posto? no no è meglio in un altro posto ah dice a me? si dico a lei scusi sa scusi signora se mi rivolgo a suo marito marito? magari fidanzato sono sei anni che aspetto sei anni? e aspetta sempre lui ma è più poco scusi lei dove è stato tutto questo tempo? ma che si sono affari miei? e poi lei scusi di che cosa si mischi? no 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 si mischi pure lei ha ragione glielo dica giovanotto giovanotto date retta a me non aspettate le rughe non aspettate la zampa di gallina che la donna si rovina ma un momento è un'allusione allora non mi permetterei di voi siete bella fresca rossa bianca come una cirasa per caso se la vuole sposare lei? eh magari ma non so come la prende mia moglie permettete guardate io prima mi sono permesso di fermarvi perché qui sulla panchina oh ma guardi con lui o panchine o cinema ha niente piedaterre ma come si permette dico non sono mica affari suoi su cara sediamoci se fosse in voi non mi siederei ma di che cosa si mischia non ha altro da fare e io mi siedo guarda un po' adesso non guardo poi quando vi alzate vedimmo dai cara siediti signorina se io fosse in voi non lo farei e infatti non dovrei farlo ma sa com'è una ci casca sempre e voi cercate di non cascare ma cosa fa? cerca di mettermela contro no cerco di non metterla di fianco ma lo sa che tutto sommato lei ha ragione stasera niente panchina ah così ti lascia influenzare dal primo che incontra va bene va 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 pure lo vede che carattere il guaio è che dopo tanto tempo una rimane attaccata tranquilla che stavolta rimane attaccato lui mica vero sa ci ha messo parecchio tempo prima di affezionarsi eh sono io la stupida eh sì se si siede lì sì ma allora insiste allora cerca la lite no 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 non importa mi siedo mi siedo mo vediamo eh vedete si sono seduti sulla panchina e a me che mi frega eh ma la panchina è verniciata di fresco lo dici adesso eh ve l'ho detto anche prima che era verniciata di fresco ma allora siamo tutti macchiati sì tutta striscia tutta striscia ma quali strisce questa è vernice a presa rapida roba moderna appena data asciuga subito fate vedere fa 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 fate vedere eh fate vedere siamo macchiati no 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 per niente proprio aveva ragione chi lo meno male beh adesso noi ce ne andiamo eh buonasera 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 sentite e voi che mamma mia che faccia che a chi sto di dove siete di viareggio poteva capitarmi peggio ma tu guarda che gente che c'è in circolazione poteva pure dirmelo quello lì senza farmi fare brutte figure capito sta vernice ha presa rapida subito e asciuga subito oh ne subito